Intanto ripeto che mercato è stato finora? Siamo agli inizi, ma? Penso che in generale sia stato un mercato che non è ancora partito, insomma è partito piano per tutti, credo che tanti soldi in giro non ci sono e soprattutto non ci sono molti giocatori disponibili perché chi ha quelli bravi logicamente se li tiene, quindi è abbastanza complicato. Soprattutto a centrocampo vi state muovendo ultimamente con Busellato vicinissimo e con Palmiero che ha fatto molto bene lo scorso anno a Cosenza altrettanto vicino? Io credo che siano due trattative, penso che per Busellato siamo d'accordo, credo che si dovrà solo formalizzare, per Palmiero siamo d'accordo però poi bisogna vedere come si evolve il mercato anche nostro sia in uscita e anche da parte del Napoli, se in qualche trattativa siano costretti a mettere dentro Palmiero. Come dicevi tu è un giocatore che ci interessa, ha fatto molto bene, Busellato è un giocatore di 26 anni che ha fatto 230-240 partite in B, quindi andiamo a mettere dentro qualche cosa di più giovane in mezzo al campo con la possibilità quasi sicura che venga Melegoni appena sarà, cioè viene con noi, poi bisogna vedere quando sarà disponibile, ma insomma cominciamo a mettere dei giocatori abbastanza giovani dentro a un centrocampo e a una squadra in generale che ha avuto molti giovani ma anche giocatori di una certa età l'anno scorso. Ecco la domanda è questa direttore, ripeto, Busellato ok manca solo l'annuncio, Palmiero si sta facendo la trattativa, ma Busellato e Palmiero insieme solo se esce Brugman o le due trattative non sono, l'una non implica l'altra? No non credo, se riusciamo a chiudere penso che non sia indispensabile che ci sia l'accessione di Brugman, cioè noi se rimane Brugman siamo contenti e Palmiero e Busellato ci vanno bene allo stesso. Chiudo con il reparto offensivo, avete ufficializzato un attaccante esterno che seguivate da tanto, Galano con tanti gol, la situazione di Sottil e sull'attaccante centrale a che punto siete? Beh guarda, Sottil ci hanno detto che va in ritiro e poi lo valuteranno, ma insomma non credo che possa partire in questo, spero per lui di sì, però non credo che possa partire in titolare nella Fiorentina, quindi credo che possa tornare da noi anche perché la volontà del ragazzo quando è andato via abbracciandomi mi ha detto sarei felice di tornare qua l'anno prossimo, noi siamo contenti se torna. Quindi diciamo Sottil da un lato, Galano dall'altro, Cisco e Marra sedieto. Anche Cisco, abbiamo poi De Grazia, abbiamo preso un ragazzo da Catania, io non conosco bene, però chi l'ha vista ha detto che è un ottimo giocatore, e dobbiamo andare sulle punte centrali e è un po' complicato perché sono poche quelle che sono, non dico disponibili, ma che si possono trattare, però siamo in tanti a seguirle e logicamente chi li ha in mano alza notevolmente i prezzi.